Ciao a tutti, eccoci qua, Fanatcogo. Oggi è la prima traccia musicale che creo con questo programma LMMS. Ho voluto fare questo esperimento, vi propongo questo brano, vi ringrazio per la visione e continuo a studiare assolutamente questo programma molto interessante. Sostitutivo, sostitutivo no, ma che possa affiancare tranquillamente a FL Studio. Grazie e buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.